buona giornata amici da massimo foghetti oggi mercoledì 6 aprile 2022 il sole è già sorto da poco alle 6 40 e tramonterà oggi alle 19 e 41 è una giornata alterna comincerà con il bel tempo poi il tempo peggiorerà ma intanto vediamo qual è il santo del giorno oggi si festeggia san pietro da verona nacque nel tredicesimo secolo nel 1200 frequentò l'università di bologna un ambiente particolare molto molto velleitario però lui ebbe una vocazione per quanto riguarda la fede e quindi entrò in un ambito molto molto ristretto religioso frequentò però dunque l'università insegnò la sacra scrittura nel convento dei domenicani di cui accettò la regola e fu un instancabile predicatore in molti centri dell'italia settentrionale e dell'italia centrale o però anche nelle marche frequentò il convento di jesi dove soggiornò per diverso tempo non non andò molto molto lontano però viaggiò viaggiò in diverse regioni e nelle nell'italia e durante uno di questi spostamenti mentre si dirigeva a como fu assassinato dagli eretici fu ucciso con una sciabolata san pietro da verona che si festeggia anche in modo particolare nella nostra regione ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che la situazione inizialmente da una così da una situazione asciutta con il sole e poi durante il pomeriggio diventerà peggiore diciamo così arriveranno piogge e rovesci le massime comunque si manterranno stabili sui 15 e 16 gradi i venti ispireranno da una direzione da sud est per quanto riguarda la costa e da est per quanto riguarda l'interno oggi iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal resto del carlino e vediamo che nel resto del carlino si apre la pagina con la situazione critica dei parcheggi e sul lungomare di sassonia anzi su viale dante a leghieri vediamo il titolo mannaia sui parcheggi altra decisione sulle nostre teste si insiste su questa situazione critica perché i residenti non ne vogliono sapere dei cambiamenti che sta attuando l'amministrazione comunale e appaiono sbalorditi anche gli operatori economici alla notizia dell'ulteriore taglio di 130 posti auto sono veramente tantissimi a sassonia dopo lo spostamento della fiera di san bartolomeo verso il lido insomma la sassonia si trova penalizzata dalla privazione di questa fonte di attrazione mancava anche questa dicono i residenti domani ci sarà un summit in giunta per recuperare questi spazi che verranno eliminati ma dove farli gli spazi sono quelli e non ci sono tante altre alternative di qui anche la critica di barbara marcolini che è la presidente della commercio fanese a ridosso della pasqua e dell'estate è un passo molto azzardato ha dichiarato e poi non sono finiti qui i provvedimenti dell'amministrazione comunale in tema di viabilità altri se ne preventivano in quel di santosso dopo la trave tocca santosso nuovi interventi è stato approvato a questo proposito un progetto di 510 mila euro per moderare il traffico e mettere al sicuro i percorsi pedonali e le proteste di via della trave non fermano il comune anzi sono in arrivo nuovi interventi di moderazione del traffico di messa in sicurezza e di percorsi ciclopedonali la giunta nell'ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento famose che è un intervento che beneficia di un importo di 510 mila euro si interverrà principalmente nel quartiere di santosso e in viale mariotti viale mariotti che unisce viale 12 settembre all'ospedale a viale vittorio veneto famose fa parte del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa lavoro insomma si cerca di facilitare e rendere più sicuro se non piacevole questo percorso sul resto del carlino vediamo che si parla anche dell'arretramento della ferrovia per ora è un solo un piano di massima ha detto il presidente della commissione lavori pubblici col torti che chiarisce nessun progetto di fattibilità insomma sembra che con tutte le dichiarazioni che sono state fatte in questi giorni a livello locale ci sia andati un po troppo avanti ancora il progetto in una fase molto molto iniziale a livello governativo insomma a livello di ferrovie dello stato e quindi l'impiego di questi miliardi che dovrebbero arretrare la ferrovia dalla costa dell'entroterra almeno in provincia di pesaro almeno nel comune di pesaro sembra ancora molto molto lontani comunque il dibattito ancora è tenuto molto molto vivo perché la prospettiva di un allontanamento della ferrovia dalla costa è molto desiderata e molto ricercata soprattutto dai paesi ovviamente dalle città che si trovano sul litorale e vediamo anche come fanno a campa un diritto ugualmente a quanto ha fatto pesaro di ricevere questo provvedimento e poi si parla anche della banca di credito cooperativo oggi sul resto del carlino quei 15 milioni di utili in tre anni per la banca di credito cooperativo di fano il consiglio di amministrazione dell'istituto di credito ha chiuso il bilancio del 2021 siamo una realtà solida e strutturata hanno dichiarato il presidente del bcc romualdo rondina con il direttore generale giacomo falcioni napoli fano in panda con mezzo chilo di coca sono state arrestate nell'ottobre scorso due donne che avevano trasportato la coca cola la coca cola si la coca in realtà così viene definita insomma in termini ironici e dalla dalla campagna nel nostro territorio sono state fermate a bordo di un'auto mentre uscivano dal casello di fano e a bordo avevano anche dei minori così per mascherare la loro attività ma ora la guardia di finanza ha trovato altri responsabili di questo traffico alle due donne che sono state poste ai domiciliari si sono aggiunti altri tre arresti tre uomini tutti originari della campagna ma stabilitisi da tempo nel fanese si tratta di vito arcella di 39 anni di terre roveresche di fabio troncato di fano 36 anni questi due sono stati portati in carcere nella giornata di ieri e di un terzo di cartoceto si tratta di massimo cozzolino di 48 anni posto ai domiciliari è ritenuto dalla guardia di finanza quello che faceva da tramite tra le donne e gli altri due elementi del gruppo insomma un traffico che è stato stroncato e che insomma era di particolare valore perché la quantità della droga era ingente pedala anche il turismo hotel pieni con adriatic green tail vediamo questo articolo a centro pagina ed una iniziativa nuova questa che è stata organizzata da Fano Corre una iniziativa che per il momento propone tre giornate di escursioni in bicicletta nel nostro territorio si parte venerdì in un circuito in un anello che parte da Fano che parte insomma non proprio da Fano ma arriverà a Fano toccherà a Fano parte dalla Magione si tratta della Magione vediamo un attimo come si chiama dalla Magione Broccoli che è nei pressi di Santa Maria dell'Arzilla e farà un giro nell'entroterra e poi arriverà a Fano per quanto riguarda poi il giorno successivo sabato si arriverà fino ad Urbino e la domenica si farà un'escursione verso Pesolo sulla panoramica poi un altro giro insomma ci toccheranno la bellezza di 30 borghi tra i più belli della nostra provincia ed è una escursione in bicicletta sono poi le biciclette un po' particolari quelle adatte a percorrere strade asfaltate ma anche strade interrate quindi strade molto molto secondarie ma molto molto suggestive al tempo stesso poco battute per scoprire panorami inconsueti aspetti particolari del nostro paesaggio soprattutto anche per gustare le nostre specialità gastronomiche è una di quelle attrattive del turismo esperienziale che attrae le persone che sono veramente appassionate di una cosa in particolare ovvero delle gite in bicicletta e ci sono proposte per tutte le condizioni ovvero ci sono piste facili piste difficili salite discese insomma c'è un po' di tutto per accontentare tutti i gusti e poi vediamo come il resto del calino si occupi di una proposta per il nuovo direttivo della carnevalesca quest'anno è l'anno del rinnovo del consiglio direttivo di questo ente che organizza il carnevale di Fano la presidente Maria Flora Gianmarioli ha dichiarato che non si ripresenterà dopo due tornate direttive per quanto riguarda l'organizzazione del carnevale ha fatto ormai sei anni dice basta per il momento e quindi altri si propongono a gestire questo ente si tratta di un gruppo presieduto da Fabio Barnesi manager della comunicazione di eventi ed esperto in marketing di Alessandro Leonelli che è funzionario di banca ed ex vicepresidente della carnevalesca ha fatto parte di altri consigli direttivi e di Stefano Mirisola che è ristoratore e vicepresidente della confesercenti anche lui ha fatto parte del consiglio della carnevalesca quindi si tratta di gente esperti quindi si rinnova si rinnova soprattutto all'insegno delle nuove tecnologie perché il carnevale di Fano deve sì mantenere intatta la tradizione ma deve essere organizzato anche in sintonia con l'evoluzione dei tempi ed ora siamo a Mondolfo vediamo Mondolfo pugno in campo condannato un calciatore tre anni di carcere e 10.000 euro di risarcimento una sentenza veramente severa quella che ha colpito un giocatore nell'ambito di una partita che si è svolta a Mondolfo e la pesante condanna è messa ieri mattina dal tribunale di Ancona nei confronti di un giocatore senigalliese che alcuni mesi fa si era reso protagonista di un grave fatto accaduto durante una partita di calcio del torneo Duisp a gioco fermo aveva colpito un avversario del Mondolfo appunto con particolare violenza tutto è avvenuto gioco fermo e questo entra nel terreno del Dolo e poi vediamo un processo di appello che ha condannato il comune e la provincia morì nel torrente con danne confermate nel processo di appello in sede civile sono stati ritenuti responsabili il comune e la provincia è stato aumentato il risarcimento si tratta del caso che ha coinvolto il cuoco Antonio Rizzello travolto in auto nel 2010 nelle acque del torrente. Ed ora passiamo ad Urbino dove vediamo che il comune ha assunto delle decisioni importanti di natura urbanistica in centro case da 45 metri cambia la soglia minima il consiglio comunale di Urbino ha approvato una variante parziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale relativa alla disciplina degli interventi edilizi che cosa ha fatto insomma ha cambiato il dimensionamento delle superfici delle abitazioni nel centro storico con un limite minimo che passa da 70 metri quadrati a 45. C'è poi un secondo limite minimo ovvero un limite che sarà di 28 metri quadrati per gli appartamenti destinati ai fini turistici ma soprattutto anche per ospitare gli studenti con un vincolo notarile che non permetta l'abitabilità nell'affitto oltre i 90 giorni. Infine il centro storico finora non si potevano realizzare piani di abitazione con una distanza inferiore di 80 centimetri dal livello della strada ora però si renderà possibile ricavarne al piano terra purché le aperture non si trovano a meno di 180 centimetri 1,80 appunto dal livello della strada. Vediamo ancora le pagine del resto del Carlino siamo a Cagli e vediamo come le misure assunte per ridurre la velocità destano sempre delle polemiche perché poi da una parte si reclamano queste misure per questione di sicurezza poi quando vengono applicate ci sono i disagi ci sono le multe e allora si protesta autovelox, parcheggi, infrastrutture, Cagli è in affanno tante le multe con la nuova strumentazione posta appunto sulle vie maggiormente trafficate i cittadini protestano e Sergio Giacchi fa la sua analisi e si parla di cifre considerevoli, sembra che le multe siano state oltre 20.000 sembra una cifra esagerata ma è quella che riporta oggi il resto del Carlino in fretta vediamo anche le notizie pesaresi dove ci sono polemiche per quanto riguarda il nuovo centro sportivo della Vis a Villa Fastigi si è tenuta ieri una riunione a questo proposito già a maggio è stato notificato dovrebbero iniziare i lavori per realizzare questo nuovo centro sportivo previsti anche uffici, servizi, impianti per il calcetto e il padel però vediamo che c'è anche qualche protesta, qualcuno per esempio protesta ed è il partito democratico che dice che non è stato coinvolto e quindi insomma il progetto viene guardato con sospetto Marche Multiservizi e Pierotti, il nuovo presidente Ricci nomina l'ex sindaco di Acqualagna dopo la scomparsa del compianto Tagliolini nel CDA, nel consiglio direttivo entra anche Sara Mengucci che è ex assessore comunale saluta Katia Perugini il cui mandato nel CDA sarebbe scaduto nella primavera del 2023 dunque Andrea Pierotti sarà il nuovo presidente di Marche Multiservizi l'ex sindaco di Acqualagna è già membro del CDA della Multiservizi dal 2020 come rappresentante dei piccoli comuni la nuova nomina è arrivata ufficialmente ieri mattina dal sindaco Matteo Ricci al pronto soccorso non c'è alcun problema lo dice, ma probabilmente non è vero lo dice l'assessore alla sanità della regione Marche Filippo Saltamartini così l'assessore dice rispondente ad una interrogazione in consiglio secondo lui basterebbero turni aggiuntivi e rotazione del 106 medici in realtà il problema esiste ve lo dicono gli stessi medici quelli che tutti i giorni affrontano questi problemi hanno a che fare con il reparto hanno a che fare con il pronto soccorso ci sono i turni in mezzo c'è la carenza di personale c'è l'urgenza di intervenire in modo rapido consapevole e razionale nei momenti di maggiore gravità di maggiore urgenza e tutto questo crea dei grandi problemi al pronto soccorso nel pronto soccorso di Pesaro avrebbe detto Saltamartini ci sono in organico 36 medici in realtà sono 42 e attualmente ce ne sono 24 di quei 4 dimissionari che potrebbero lasciare l'attività entro il primo settembre prossimo e due sono in aspettativa per un totale dunque di 22 medici in servizio per coprire questa carenza dovrebbero essere 42 ce ne sono 22 e questo è già un problema per coprire questa carenza sono state assunte figure con una specializzazione equipollente ovvero chirurgia d'urgenza quelle che potrebbero insomma fare per entrare in pronto soccorso e poi ci sono due chirurghi tre medici con la specializzazione in medicina e un medico neurologo e questo fa sì che da 22 si salga a 28 medici sei figure che però in pronto soccorso almeno fino a oggi nessuno sembra aver visto queste sei nuove figure così come non si sono mai visti i 13 medici 5 più 8 promessi mesi fa in seguito al concorso insomma si cerca di fare delle assunzioni le assunzioni non vengono la gente non risponde alle esigenze del pronto soccorso e lui dice che il problema non esiste Soria Maxi Torre con sei antenne rivolta c'è l'ok del comune la struttura sorgerà in un'area verde tra Nobiliore e Caboto gli ambientalisti insorgono il luogo è improbonibile e soprattutto insorge il presidente del consiglio di quartiere dice che questa torre che dovrebbe sorgere a Soria è una cosa oscena e non ci hanno nemmeno informato a me non hanno risposto ha dichiarato vediamo ora il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che si parla che si parla soprattutto della notizia di cronaca di cui ho già evidenziato i dati esalienti traffico di cocaina nel Napoletano scattano cinque arresti due in cella la finanza esegue le ordinanze dell'autorità giudiziaria Fano Terre Roveresche Torre Annunziata sono stati dunque arrestati i tre uomini che davano appunto la droga alle Corriere che sono state poi individuate già nell'ottobre scorso e poi un'altra notizia di cronaca vediamo si fa dare gli ori per venderli ma poi diventa irritracciabile si tratta di un truffatore un cinquantenne originario di Lecco che ha truffato una signora di 56 anni lei la vittima del raggiro la signora era finita per circa un mese in una struttura di cure psichiche per via della sua personalità borderline diciamo così un passato che ha le sue tracce le sue radici anche in una situazione di tossicodipendenza di uso di stupefacenti insomma una realtà un po' particolare però era stata convinta a cedere i suoi ori per venderli a quest'uomo il quale invece non li ha venduti ma se li è intascati l'uomo è stato condannato a un anno e sei mesi con la multa di 800 euro le motivazioni della sentenza si terranno tra 15 giorni e qui si parla di carnevale fango il nuovo volto della carnevalesca solidale con leonelli e mirisola ovviamente ancora è tutto da costruire è un gruppo che si propone alle elezioni del prossimo consiglio elezioni che dovrebbero arrivare nel mese di settembre dopo che nel mese di agosto si terrà quel corso mascherato che a febbraio nel mese canonico del carnevale non si è potuto tenere ancora quest'anno a causa della pandemia del covid ASET ce l'ha detto ai conti ma senza comunicazione è un articolo scritto da Andrea Amaduzzi che analizza un po' la situazione delle assunzioni all'interno dell'azienda servizi controllata dal comune di Fano sono state approvate dalla giunta sei assunzioni ridotto il piano dell'azienda comunque è stato tolto anche su rilievo del corriere adriatico la funzione comunicazione che l'estate scorsa aveva sollevato non poche polemiche e poi si parla di telemedicina di telemedicina in merito ad una dichiarazione che ha fatto il consigliere regionale Luca Serfilippi la telemedicina per la guardia medica si può fare qualcosa di più ha detto Serfilippi Salta Martini la tecnologia contro le carenze del personale i medici liberati dall'EUSCA non coprono i turni e quindi se il medico non può arrivare può arrivare la telemedicina cioè quella possibilità di fare diagnosi a distanza tra il medico che magari si trova nel suo studio oppure in ospedale e il paziente che si trova a casa e poi vediamo un'iniziativa interessante di carattere turistico che è stata presentata nella giornata di ieri alla scoperta del territorio in bicicletta un'iniziativa organizzata da Fano Corre che coinvolge tutti coloro che amano fare escursioni in bicicletta sono un po' quelle biciclette speciali che possono andare tanto nella careggiata asfaltata quanto appunto nello sterrato da venerdì a domenica tre giornate per la conoscenza del nostro territorio quindi possono essere così sfruttate sia dai residenti che dai turisti residenti perché a loro si mostrano aspetti inconsueti aspetti poco conosciuti del territorio dell'entroterra ed è una iniziativa di grande interesse questa perché poi può essere replicata anche durante l'anno con dieci alternative dieci itinerari che sono stati testati da due esponenti di Fanno Corre che hanno appunto monitorato tutto il territorio l'hanno provato con la forza dei loro pedali e passiamo alla Val Metauro vediamo che tra risate vitalità e profumi torna il festival di primavera Calcinelli domenica si anima con fiori iniziative musica e gli artisti di Zellig dunque una giornata sperando nel bel tempo in serenità a Marotta erosione in difesa della costa il comune stanzia 110 mila euro dalla regione ne arrivano 250 operazione protezione nella spiaggia di Marotta la regione regionale la giunta regionale proprio nei giorni scorsi ha deliberato lo stanziamento di oltre due milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche a difesa della costa ebbene tra questi comuni che beneficeranno di queste risorse c'è anche Mondolfo con un finanziamento di 250 mila euro l'inizio dei lavori è previsto per il 2023 come indicati dal bando e gli stessi riguarderanno la zona centrale del litorale di Marotta vediamo anche la pagina di Senigallia missione evitare i raid dei vandali stabilimenti vietati da mezzanotte sono le decisioni che ha assunto l'amministrazione comunale ok alle passeggiate sulla battigia il sindaco Olivetti non c'è la necessità però di chiudere tutto nonostante le aggressioni che hanno subito alcune concessioni balneari sono i soliti vandali che distruggono vediamo qui la fotografia pubblicata anche nei giorni scorsi di un danno realizzato appunto ultimamente in una concessione balneare bar in spiaggia aperti fino alle 3 di notte concesse 23 deroghe da maggio a settembre sulla pagina di Pesaro vi segnalo anche l'articolo che riguarda la sfida del turismo per svoltare nel senso per lasciare un po' i tempi bui e iniziare quelli un pochino più luminosi ci serve almeno un 10% in più lo ha dichiarato Federico Scaramucci è l'obiettivo dei tour operator ma le prenotazioni ancora ristagnano per il momento ci si affida un po' al last minute soprattutto in vista della Pasqua Renzo Fazzi amministratore tour operator Break in Italy dice che c'è molta voglia di ripartire ma purtroppo pesa la congiuntura legata all'aumento dei prezzi e poi vediamo ancora le dichiarazioni di Salta Martini per quanto riguarda il pronto soccorso il titolo è sei medici di altre specializzazioni e ancora da presidente di Marche Multiservizi tendo la mano ad Asset uniamo il territorio ed è Andrea Pierotti il nuovo presidente è l'ultima notizia con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa e noi ci risentiamo domani mattina alle 7 buona giornata risentirci a lo a a a ah a a a a a a Grazie a tutti.